Ciao ragazzi, ciao a tutti, buon pomeriggio, benvenuti in questo nuovissimo video come da titolo Moise Keen Beh, che dirvi? Io non mi rimangio quello che ho detto, quindi faccio il video, pochi video Quando li faccio è perché o c'è un nome clamorosamente strano, come per esempio My Beast The Pie e lo abbiamo fatto la settimana scorsa Oppure come Keen che sembrerebbe essere entrato veramente nella trattativa fra la Fiorentina e la Juventus Allora, cerco di fare un'analisi più dettagliata possibile, però cercando di non fare il politichese Ma andando dritto, come spero sempre mi riconosciate, sempre dritto al punto Senza fare grandi discorsi, senza fare supercazzole perché a voi non vi devo prendere per le mele E non devo vendere giornali e non devo fare visualizzazioni, non mi interessa e quant'altro Io credo che la Fiorentina stia approcciando male questo discorso qui Dice perché? Perché non è il profilo quando sento parlare di grande attaccante Quando sento parlare di ambizione, quindi anche di un discorso di progettazione Non posso io andare a prendere un giocatore come Moise Ken o Keen Che fra un anno ha la scadenza del proprio contratto Che ha fatto 0 gol questa stagione E ha fatto 14 gol in 102 partite con la Juventus dal 2021 ad oggi Se aprite i social c'è bottiglie di champagne C'è già pronta la corona per nominare giunto l'iree dei direttori sportivi Perché questo è un capolavoro Cioè, mi spiego, se la Juve riesce a vendere Ken, Keen, scusate, magari Ken Alla Fiorentina Anche fosse una cifra che si agire intorno ai 10-15 milioni Ha fatto un colpo di mercato E noi abbiamo fatti tanti in uscita dei colpi di mercato Uno su tutti lo scorso anno, Igor Però questo non è, secondo me, il modo giusto per approcciarsi E per rispettare, tu Fiorentina Le parole che hai detto in conferenza stampa Ormai diverse settimane fa con Pradè e Ferrari E lo abbiamo commentato Ma anche le parole, non ho fatto il video ieri perché non ho potuto a causa lavoro Anche le parole di Mister Palladino Che continua sul discorso dell'ambizione Sembrerebbe che Palladino, e questo già lo sapevo Apprezzasse e tuttora apprezza Keen Io non sono assolutamente d'accordo per vari motivi Il primo, sicuramente, è una testa calda Keen è una testa calda Su questo non c'è dubbio Ma poi non credo sia l'altro motivo Che poi è quello più importante Perché di teste calde il Fiorentina In passato ne abbiamo avute tante Voglio dire, Edmundo non era una testa calda Mutu non era una testa calda Se questi la domenica mi fanno gol A me che me ne frega Il discorso è che oltre ad essere una testa calda Moise Keen È anche un giocatore che Li ho sviscerati, li ho sviolinati prima i numeri Ha dei numeri impietosi Allora io se devo andare a prendere un attaccante E deve andare a migliorarmi Non mi deve andare a prendere e fare peggio di quelli che attualmente ho Perché Keen alla fine dei salmi Si è ritrovato a fare poco e niente alla Juventus E aveva tutte le carte in regola Per poter far bene Quindi nessuno gli ha tarpato le ali Nessuno Allora se dobbiamo dimeire La succursale della Juventus Che prima era il Sassuolo E adesso è la CF Fiorentina A me non sta bene Ma non sta bene fare la succursale in generale Anche fosse la Lazio Anche fosse la Roma L'Inter, il Milan Io non voglio fare la succursale Di nessuna grande Io voglio essere una grande squadra Allora io non posso fare ogni anno Un accordo Con la Juventus E per quello E per quell'altro Accordi che poi Come vedete Specialmente A pro Fiorentina Non ci sono quasi mai Arthur Arthur è stato un Un acquisto Anche se in prestito Che possiamo definire Straordinario Positivamente sorpresi da Arthur No Problemi fisici Non è stato riscattato Perché ha un ingaggio alto Ma questo già lo sapevano E via discorrendo Non si è mai fatto In entrata Con la Juve Un pasto buono Continuiamo Cioè vogliamo continuare A prendere i giocatori Gli avanzi Degli avanzi Perché l'avanzo della Juve È Arcadius Milik Non è Moise Kinn Moise Kinn È la terza Ma la quarta scelta Nell'attacco della Juve Allo stato attuale Se tu mi vai a prendere Arcadius Milik Io sto zitto Perché è perfetto E tra l'altro Mi va a regalcare Un po' anche Diciamo Il diktat Del bomber Tra virgolette Che Palladino ha avuto Al Monza Che è Milan-Duric Da quando è stato ceduto A gennaio Dal Verona Alla Fiorentina Ma di Kinn Io che cosa me ne faccio Quindi non c'è solo L'aspetto mentale C'è anche l'aspetto Dei numeri E questo ragazzi È un fagol Poi Io 26 giugno 2024 Sono le 18 Il 21 Quando sto facendo il video Ora è il tempo Di piazzarlo su YouTube E ce l'abbiamo Se fra 4 mesi 5 mesi 6 mesi Mi venite a Bussare alla porta Del mio canale E mi dite Guarda sei un cretino Non ci capisci niente Io sono contentissimo Cioè Se la trentina Prende Kinn E questo fa 20 reti Io sono la persona Più contenta del mondo Occhio anche Alle metodologie Di trasferimento Cioè Non facciamo prestiti Con diritto Di riscatto In base a Non faccio Perché poi si prende In tasca Poi si prende In tasca Quindi Andate sui social Bottiglie di champagne Progiuntoli Per liberarsi Del peso Del fardello Kinn Io E tanti Di noi Io non ho trovato Uno ancora D'accordo Su questo acquisto Noi siamo scontenti Quindi questa è un'operazione Che scontenta I fiorentini E accontenta I juventini Fate voi Se questo deve essere Il progetto Di ambizione Di crescita Che volete In fiorentina Io Non sono d'accordo Fatemi sapere Che ne pensate Che ne pensate Che ne pensate Che ne pensate Che ne pensate